Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio Coppa Italia questa sera Milan-Torino nella gara degli ottavi di finale di Coppa. I rossoneri ricevono a San Siro i Granata tra i numerosi infortuni e la necessità di fare turnover. Pioli dovrebbe rivoluzionare la squadra puntando per la prima volta dall'inizio sulla difesa 3. E nella sfida di ieri l'Inter ha battuto con fatica 2-1 il Parma volando ai quarti di finale. Gli scontri tra i tifosi di Roma e Napoli in A1 massima severità contro i violenti sarebbe questa. La principale raccomandazione del ministro dell'Interno piante dosi al termine dell'incontro con i vertici del calcio albiminale. Al vaglio misure più stringenti come confermato dal presidente della Lega Serie A Casini ma nessun nuovo decreto. Il calciomercato Joao Felix è un nuovo giocatore del Chelsea. L'attaccante portoghese subito dopo aver rinnovato il contratto fino al 2027 con l'Atletico Madrid si è trasferito a Londra in prestito fino al termine della stagione. Arrivo in una delle migliori squadre del mondo ha detto Joao Felix. Il tennis Melbourne all'arme Djokovic lascia l'allenamento per un problema muscolare, il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra che si era fatto sentire ad Adelaide. Non è passato, Nole ha abbandonato il campo dopo 36 minuti e diversi stop. E chiudiamo con il basket NBA, Orlando sbanca Portland, Mitchell non basta, Cubs KO con i Jazz, i Suns sorprendono i Warriors, Donchic stellare ma i Clippers battono i Mavericks, tiri liberi da record per Miami 40 su 40. È tutto, grazie per averci ascoltato in regia. Rosero Perez Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Sport